Ospite quest'oggi nei nostri studi l'artista Giovanni Scagnoli di Sarnano, docente anche all'Accademia delle Belle Arti di Macerata. Un sarnanese, quindi maceratese, che per la seconda volta a distanza di due anni torna ad esporre alla Biennale d'Arte di Valencia, giunta alla sua 58esima edizione. Allora, con lei, signor Giovanni, parliamo appunto di questa mostra, questa grande esposizione conosciuta davvero in tutto il mondo, che l'avere ancora una volta protagonista. Sono stato invitato alla Biennale di Venezia dal Padiglione Granata, che ha iniziato con l'inaugurazione l'8 di maggio, al pubblico l'11 di maggio, finirà il 24 novembre 2019. Il Padiglione Granata ha dato un tema, memoria epica, da svolgere in ogni artista. Devo dire che sono stato uno dei più fortunati, perché rappresento l'Italia, rappresento, diciamo, le marche in questo evento, e ho svolto il tema a piedi nudi. A piedi nudi è un'installazione che ho fatto con due opere, che rappresentano tra la pittura e l'installazione e la scultura. Il piedi nudi rappresenta un po' il percorso sensoriale che ci rimette in contatto con la natura e con noi stessi. Quando noi camminiamo scalzi, ravviviamo i piaceri dell'infanzia, che è un gesto naturale e che ci rimette in contatto con la natura stessa. Ho realizzato un'opera con un magma di colori e segni che cercano il centro di un vortice in un nucleo cosmico con dei riflessi di luce, delle diafane, con dei raggi di luce che si affaccia e statica all'interno di un vuoto che esprime un po' l'essere della vita dell'umano. E la sua città natale, per omaggiarla di questa esposizione, ha deciso di dedicare un'intera giornata a lei e questo avverrà in occasione di un evento programmato per il prossimo 13 settembre. Sì, il 13 settembre nella sala consigliare del comune di Sarnano, alle ore 18, due critici noti d'arte, la Loretta Fabrizia e la Paola Ballesi, spiegheranno un po' questo percorso degli ultimi anni, spiegando anche le opere della Biennale di Venezia.